Dalla realtà, le infrastrutture di questo territorio, le imprese di questo territorio, ho visto gli ultimi dati sull'export, sta calando l'export anche delle imprese di Varelli, prima volta nella storia. I dazi, non i dazi, incrociati. Io sono anche relatore per un programma spaziale europeo, quindi seguo anche una parte rilevante del lavoro che riguarda tutto il distretto aerospaziale che ha fatto le fortune in parte di questo territorio. Il tema della scuola, il tema dei rifiuti, i temi concreti sui quali legittimamente il popolo misura la nostra capacità di fare politica.